buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a questa diretta di Bridget Bridges scusate è incentrata sulle vite precedenti attendo un attimino che ci siete che vi collegate soprattutto che mi fate davvero un feedback di questo collegamento e poi partiamo scusate in ritardo dovuto ai miei problemi tecnici qua dove ci sono io in Liguria è tanto brutto tempo quindi ho fatto un po' fatica con i collegamenti ma spero che questo non precluda il fatto che comunque tutti voi mi sentite e soprattutto mi vedete bene buongiorno buongiorno allora come stiamo passando avete già iniziato a lavorare io ancora no piano piano insomma anche io inizierò a lavorare adesso sto guardando abbiamo due ore di tempo da ciao Simonetta tanti auguri di buon compleanno e ho visto il che abbiamo due ore di tempo questa volta quindi diciamo che possiamo andare un attimino più con calma solitamente in queste mie dirette prendo a random circa tenete conto 40 persone invece ovviamente avendo due ore di tempo ne ho prese molte molte di più e l'abbiamo fatto anche per cercare di venire un po' incontro a tutte le persone che siete sempre tantissime che hanno richiesto di avere un risponso in queste vite precedenti mi sentite bene mi vedete bene ve lo chiedo perché appunto anche qua veramente c'è un tempo orribile e le linee ovviamente sono quelle che sono ecco l'importante è che riuscite a vedermi bene bene allora e se io andrò poi a parlare un pochettino delle vostre vite precedenti se vi perdete qualche pezzo non vi preoccupate perché tanto comunque qui su bridges è possibile vedere la registrazione bene si sente e si vede bene ok qua 30 gradi wow 30 gradi wow io sono qua veramente con la mia pacemina non riesci a vedermi bene prova a entrare e uscire ecco di solito so che quando ci sono dei problemi di connessione si può entrare e si può uscire ecco però dovrebbe sentite l'audio ok alcune mi sentite bene alcune no quindi immagino che per questo motivo allora sia un problema un po' per tutti per quanto riguarda proprio la linea di internet grazie grazie mille no non solo tu non senti ci sono alcuni sentono alcuni no il video va e viene io inizio in Sicilia 28 gradi vogliono essere lì da noi invece magari io chiamo dalla Liguria freddino proprio freddino vabbè comunque ciao Sonia comunque molti mi vedono e mi sentono bene per cui ecco diciamo che è un problema che va un po' a zone perfetto allora signori iniziamo che così chi ben inizia è a metà dell'opera io mi sono messa il microfono un pochettino più vicino a me in maniera che mi sentite bene allora in queste nostre dirette io parlerò adesso più con calma perché abbiamo due ore di tempo quindi semmai possiamo anche magari se volete farmi qualche domanda o qualche curiosità inerente per chi non mi conosce io sono una viaggiatrice astrale cosa significa? significa che diciamo quello che è la mia capacità mettiamola così è di viaggiare letteralmente quindi viaggio in quello che è una vita precedente viaggio nel passato posso fare un viaggio nel presente o nel futuro e è possibile per me fare un viaggio anche nell'oltre no? per viaggi intendo dire che io sono qui in questo momento e la mia anima e il mio spirito si spostano ok? quindi non è che io non percepite nulla ecco Paola Rota sei molti mi stanno ascoltando quindi sì penso sia solo tu lo stanno dicendo sì mi spiace detto questo quando vado nell'oltre invece vedo chi c'è non sono mai io che li chiamo quando vogliono dare i messaggi sono loro che vengono da me ecco questo giusto per avere un'idea di conoscenza per chi mi vede per la prima volta no? ecco in queste vite precedenti vi ho chiesto le vostre foto la vostra data di nascita perché in precedenza guardando ho avuto questi flash di queste vostre vite sono flash quindi per alcuni sono veramente solo dei flash per altri sono dei flash un pochettino più lunghi va molto ad persona ma quindi non sono io che dirigo e non sono io che scelgo a dire la verità perché sono sempre quelli dell'oltre che mi dicono cosa devo o non devo vedere o sentire ok bene signori direi che siamo in un numero giusto buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti voi e iniziamo ogni tanto io mi fermerò per vedere i vostri i vostri messaggi abbiamo tutti Gisella Granata dei grandi doni solo che alcuni li hanno fatti uscire fuori un po' prima degli altri ecco molto più semplicemente allora andiamo da Rosa la prima da Rosa Benfante allora Rosa ah tanti di quei foglietti perché ho dovuto scrivere tutto sennò c'è anche si ricorda allora Rosa ho visto che eri un allora andiamo intorno al 1700 ok quindi mi posso sbagliare come tempo perché come voi sapete anzi per chi non lo sa ve lo dico io non ho molta molta materia in storia quindi ciò che vedo è una mia libera interpretazione dico indicativamente può essere quel periodo lì ok però tenete conto che si può sbagliare su questo ok comunque Rosa Benfante ho visto che eri ho visto che il tuo mondo era tutto quello che si muove con il fisico e infatti tu leggevi e trasmettevi con il linguaggio del corpo poi ho capito eri un ballerino russo ok quindi andiamo in Russia andiamo intorno al 1700 il tuo mondo era questo era il mondo del fisico fisico da tutti i punti di vista fisico nel trasmettere appunto col corpo e fisico anche nel linguaggio sempre un linguaggio del corpo come ad esempio noi italiani che abbiamo molta mimica con le mani ecco che diciamo tu in questo caso avevi molta mimica con il fisico e questo è quanto non so se adesso poi ti corrisponde insomma ci sono delle vite precedenti che possono corrispondere e altre invece no altre che dà un fastidio come se il ricordo sarebbe troppo brutto dipende ciao Romina ma ciao ciao cara ciao che bello vederti ok allora Rita Canti andiamo da Rita Canti ho visto che eri in un'epoca prima di Cristo Lucia De Donno mi hai persa di nuovo no io guarda sto facendo la diretta che dura due ore da adesso fino alle 18 quindi non credo che tu mi abbia persa non credo proprio poi magari lo vedi registrato comunque Rita Canti era rimasta Rita Canti che sarà lì che mi guarderà e dice ma tocca a me perché non mi parli ok allora ti dicevo che eravamo in un'epoca prima di Cristo ho visto che eri una donna del Libano quindi una libanese ho visto perché l'ho visto perché ho visto i datteri ho visto i miele ho visto semi di ogni genere ok quindi molto molto bello ho visto che li coltivavi e ho visto anche che li vendevi eri Rita Canti una donna molto ricca per questo ma ho visto anche che la tua ricchezza per la maggior parte la elargivi a chi non poteva quindi eri dotata anche di una grande grande bontà quindi molto bella questa vita andiamo da Moira a Lessi prima volta che ti ascolto eccomi qua sono Nicoletta sono la mia egettrice astrale abbiamo vite precedenti e si sono prenotati prima però quindi se vuoi puoi ascoltare come avviene e poi se ti interessa è possibile poi fare una prenotazione nei prossimi post dei prossimi giorni se vorrai se ti piace questo allora andiamo dicevo a Moira Alessi Moira Alessi ho visto che eri dunque allora è un po' lunga il mio flashback su Moira Alessi ho visto che eri un predicatore americano e giravi l'America quelli che erano gli Stati Uniti di adesso no? ecco giravi in America per portare gioia e amore non ti aspettavi nulla quindi lo facevi senza avere nulla in cambio hai tuttavia sofferto molto ciao Maria Caterina hai sofferto molto quella vita lì ma non ti sei mai perso d'animo eri un uomo ovviamente ed eri nel secolo scorso ok quindi non ti aspettavi nulla in cambio ma di fatto le persone hanno veramente approfittato tanto tanto ok andiamo da Monica da Macco allora Monica io intanto parlo piano tanto che voi vi collegate andate venite vedete un po' Monica da Macco ah sì scusate perché sto guardando i vostri commenti allora scusate mi fermo un attimo a tutte le persone che mi hanno inviato la foto con la data e che rientrano in questa diretta io ho dato una conferma in risposta alla loro foto siete tantissimi sono riuscita a farne tantissimi perché questa diretta a differenza delle altre dura due ore ok e chi non ha avuto risposta non rientra in questa diretta può essere che io riesca a farne qualcuna a random molto difficile però vedete voi allora e non è Monica Giordano non stiamo parlando di medialità ma di vite precedenti ok moira allora moira abbiamo detto che eri questo predicatore americano quindi aspettiamo magari il tuo feedback se vorrai andiamo da Monica da Macco allora io ho visto la Scozia e facevi parte di una di una corte ed eri addetta a quello che erano i giochi alla cura del palazzo alla cura delle cucine e a far divertire diciamo quelli che erano i regnanti del del feudo ok quindi eri in una avevi a che fare su tutto quello che poteva essere adesso come se fossi un capo di un villaggio turistico odierno no in realtà in Scozia del medievale quindi tutto quello che faceva parte di un castello ti piaceva molto far giocare giocare anche i bimbi avere cura di quello che erano le cucine dei pasti di tutto proprio scusate ma ho un'allergia incredibile ogni tanto la voce è scema ecco qua allora andiamo da Anna Maria Tatti Anna Maria Tatti ho visto che eri una donna spagnola ho visto che ballavi con le nacchere quindi direi assolutamente una ballarina di flamenco e perché ho sentito anche la chitarra flamenco io ho visto questi tuoi occhi neri e profondi illuminarsi davanti a questa grande melodia spagnola come andiamo vi piacciono mi sentite sempre allora vediamo un attimo la domanda di Antonella Orsino la vita che vedi riguarda la precedente a questa che viviamo sì o può essere una delle tante nel senso che tra queste quella che vediamo ora possono essere anche altre sì anche a questa risposta nel senso che noi abbiamo alcuni di noi possono aver fatto tante vite altre poche alcune nessuna dipende però a me diciamo che in questo feedback ovviamente io ne devo vedere solo una perché se per persona immaginate voi devo vedere tutte le vite ne farei una forse due al massimo in tutta una diretta quindi per dare spazio un pochettino a tutti anche per avere diciamo poter avere poter dare risposte più a tutti voi ho ritenuto opportuno fare un flashback e poi un flashback che vedo cioè non mi soffermo a vedere tutta la vita in dettaglio assolutamente no quindi solamente un un piccolo punto nel quale vado ad avere un flash della vita precedente ecco ne più ne meno poi a molti di voi può corrispondere assolutamente e ad altri no ecco dipende molto è molto personalizzato la vita precedente ok spero così di averti risposto Antonella però ne abbiamo più di una a parte una nostra carissima faccio un esempio Katia Sam che lei quando ho avuto modo di vedere le sue vite precedenti io ho visto delle stelle ho visto delle costellazioni quindi in questo caso si può dire sicuramente che è una figlia delle stelle ecco torniamo a noi abbiamo Paola Miniello allora Paola siamo prima della rivoluzione francese ho visto che eri esperta nel preparare tutto quello che aveva a che fare con la farina le torte il pane i dolci e anche per la corte reale quindi diciamo che andiamo tutto nella parte del cibo in questo caso ho visto solo questo né più né meno quindi come vedete alcune sono flashback piccoli altre sono più sviluppate Paola Peri allora Paola nel tuo caso visto che eri un bimbo nel Messico andavi sempre a vedere i siti archeologici Maya eri affascinato ed eri affascinato da questi siti come se sapevi di aver vissuto con i Maya veramente qualcosa di particolare no? non ti ho visto diciamo in questo flash non mi sono soffermata a vedere poi la crescita di questo tuo di questo tuo essere però sappi che eri comunque come bimbo ho visto il bimbo un bimbo appunto in Messico che andava a visitare questi siti archeologici Maya e tu sapevi da bambino quindi eri già un bambino speciale secondo me sapevi già di di essere stato comunque con i Maya andiamo andiamo da Rosi Petrone allora Rosi una cosa bellissima ho visto che eri un avventuriero cileno disposto a rischiare tutto per raggiungere altri popoli per vedere le altre usanze ovviamente il tuo fine era poi quello ovviamente Rosi di colonizzare e ovviamente guadagnarci no? e beh purtroppo è così ora non sei in ritardo Alessandra tranquilla non ti ho ancora detto e comunque abbiamo fino alle alle 18 abbiamo due ore insieme grazie sei gentilissima però non è dovuto che tu mi segui sapendo anche che potete vedere la registrazione quindi questo tuo questo tuo messaggio è mi fa capire che ci sono persone in questo mondo che sono di una gentilezza estrema grazie grazie Alessandra Taloni allora come dicevamo Rosi Petroni ha visto che eri questa avventuriera cileno che eri disposto come ti dico a rischiare tutto per vedere nuovi mondi e colonizzarli però tutto avevo comunque un secondo fine di guadagno ecco purtroppo magari in questa vita sarà l'incontrario che dici magari cerchi di raggiungere le tue mete senza porti un fine di guadagno no? andiamo da Antonella appunto Ursino che mi avevi fatto la domanda prima ecco io ho visto Antonella che eri una specie di la grande linea tienimi la parola una specie di ingegnere del medioevo andiamo nel nord Europa comunque eri molto bravo ma eri troppo perfezionista ed eri anche troppo lento nei lavori perché volevi che fossero fatti troppo alla perfezione quindi ti allungava tantissimo i tempi giustamente no? hanno preferito quindi a te un ingegnere trattami la parola ingegnere dell'epoca non so come si chiamava un costruttore no? grazie grazie Elina e ti hanno preferito uno meno bravo ma almeno era più veloce e più svelto e quindi cara Antonella sei stata spodestata e questo non ti è piaciuto molto anzi proprio per niente ma questo non ha fatto sì che tu hai cambiato tendiamoci sei sempre rimasto un perfezionista è una persona molto lenta purtroppo allora andiamo da Paola Adinolfi ciao Giorgi Paola Adinolfi Diciamo che cosa ti posso dire sacrificio è la parola che più si addice alla tua vita precedente per non pesare sulla tua famiglia in grande crisi economica ti sei rinchiusa in un convento in Germania e hai purtroppo patito anche molto e perché hai patito molto perché non era di vocazione la tua ovviamente l'hai fatto per cercare di non ripeto di non pesare la tua famiglia e sei rimasta lì dentro ma ti sei innamorata all'epoca nei secoli scorsi non andava proprio bene assolutamente e non ho visto una vita felice una vita di grandi grandi sacrifici per non ottenere nulla in cambio andiamo da Katia Marino per aspetto se volete i feedback ok andiamo da Katia Marino ho visto Katia che eri una donna del Brasile senza figli non potevi non ne avevi in realtà poi tuo marito non ne poteva avere però dava la colpa a te di questo fallimento matrimoniale sei poi stata vedova di questo marito orrendo non si deve dire però eri contentissima e hai avuto figli da altri uomini però tu nel tuo cuore amavi questo tuo marito primo quello che non ti ha potuto dare figli anche se ti incolpava tutto tu lo amavi e basta lo amavi e basta non è stato facile come epoca non so avevi il gonnellone lungo lungo avevi i capelli raccolti non ho visto la luce quindi penso che sia secolo scorso ecco grazie Pietro ignazia marongio mi ha fatto sorridere ho visto che eri un uomo visto che eri in portogallo io ho visto che trascinavi e avevi sopra un caretto colorato e un caretto con un cavallino e fischitavi ed eri intorno al 1600 circa però non ho visto altro quindi comunque non era una vita o che ho visto brutta o roba del genere direi proprio di no anzi però ho visto solo quello quindi come vedete mi ripeto ci sono dei momenti in cui si hanno delle vite che posso proporvi un po' più lunghe anche come racconto e altre invece che sono assolutamente più più piccole fra un po' dovresti esserci anche tu Simona credo anche in questa vita ti prodighi per gli altri ma almeno il tuo sacrificio vale perché in quella non ne va al suo nulla ecco ora io te lo dico da tieni conto che io sono cristiana e ovviamente quando si fa del bene nella mia religione non ci si aspetta niente in cambio ma insomma ho un minimo visto quello che hai partito la volta precedente Paola mi sembra un po' il minimo andiamo da Alessandra Licata hai avuto figli dagli altri dagli altri non da tuo marito da altri mariti ma non da quello Katia di cui tu eri innamorata quello di cui tu eri innamorata ti ha dato la colpa del fallimento si è rimasta vedova ha fatto figli ma con altri di cui però non era innamorata Alessandra Licata allora ho visto che eri nobile ho visto Alessandra che avevi questo titolo ereditato nella corte inglese ho visto ho visto che eri molto austera e molto rigida per le regole di palazzo e nel ruolo che tu avevi di duchessa no tuttavia tuttavia la stabilità che avevi nella famiglia ti ha reso una donna forte e sicura di te perché più tu vedevi la tua famiglia stabile più riuscivi a vedere il tutto fermo tutto che potevi tenere sotto controllo nella tua famiglia più questo Alessandra ti faceva sentire forte e sicura di te certamente così austera potevi apparire anche forse un po' fredda perché eri molto rigida queste regole tu tenevi tantissimo queste regole però lo facevi anche perché questo ti dava sicurezza perché dove le persone vedevano la tua autorità ti temevano anche ecco non andava bene così ok andiamo da Adele Longhi Adele Longhi allora Adele ti ho visto un nel se ero un ebreo prima di Cristo e ho visto che eri un uomo un dottore della legge la legge nel senso dei testi ebraici i testi sacri ho visto che eri molto bravo ad analizzare e descrivere e discutere tutto il processo della vita tramite queste letture e quindi veramente molto affascinante da questo punto di vista penso che se tu fossi stato in quest'epoca Adele sicuramente saresti stata una professoressa di storia straordinaria no? oppure un investigatore privato ecco e quindi direi che questo tuo non so se questa tua discussione sempre sulle leggi e testi sacri ebraici ti possono corrispondere in questa vita volendo puoi spaziare su altri argomenti quindi essendo che eri sempre infilata solamente su questo andiamo da Alessandra Taloni ogni tanto mi fermo per la voce anche per non riprendermi un attimo nelle mie visioni Alessandra Taloni ti ho visto che eri in Africa ti ho visto che eri di colore ti ho visto che pettinavi le donne dei colonizzatori inglesi ed eri molto brava in quest'arte perché ovviamente i capelli non erano proprio quelli cui eri abituata ad acconciare tu perché i capelli ovviamente dell'europeo poteva essere sicuramente molto diverso dal cappello di una donna di colore no? un pochettino più crespo e quant'altro ed eri comunque molto brava di certo comunque eri in una posizione da serva quindi non tanto bella però sai che cosa che tu avevi da mangiare e quindi non penso che ti facesse tanto tanta fatica Maria Laura Farina non mi ricordo se ti ho chiamato perché quando inizio con tutti i nomi non mi ricordo purtroppo Avalor Lori puoi rivedere Katia la registrazione ma io ho dei flashback e questo è tutto quello che vedo se poi volete approfondire è un discorso un po' più diverso ecco però un lavoro in quell'epoca ti direi già di no all'epoca non c'era lavoro per le donne e non di solito secondo me le vite precedenti da come lo posso vedere io da come è stata anche la mia esperienza della mia le vite le vite precedenti hanno due strade nella prima ci si può ritrovare avere assonanza con quella che noi abbiamo avuto tieni conto che ne abbiamo avute tante quindi in alcune possono esserci delle assonanze che sono volte a dare degli insegnamenti cioè noi ritorniamo per imparare altre invece che magari vedo quelle che in realtà non ci dicono nulla oppure che alla fine ci dà un fastidio come dire a me dà fastidio la Germania faccio un esempio perché magari io in Germania sono mancata ecco è un discorso di questo genere ok quindi può avere assonanza come no non è detto mi ripeto ne abbiamo veramente tantissimi di vite io guardo con voi solamente un flash questo per dare giustamente capite mi spazio un pochettino a tutti ecco ok quindi guardate anche questo tenete conto che si sono circa se c'è circa una sessantina che ho preso quindi sono veramente tantissime e mi fermo per ogni persona con una visione profonda che va in una medianità di un viaggio astrale giustamente però è solamente un flash quindi perdonatemi se non sono così precisa ma perché i tempi e anche la mia parte energetica non mi permette di essere poi così precisa allora andiamo da Alessandra Taloni abbiamo detto quindi che era una donna africana che facevi tra virgolette scusami il termine ma usava lì la serva di queste donne inglesi colonizzatori eri molto brava per tempo l'importante era mangiare quindi non ti facevi tante tante idee su quel che doveva essere oppure no andiamo da Avalor Lory è una donna era una donna nella Palestina dopo Cristo lavoravi molto e servivi Dio al tempio quindi diciamo che ho visto una donna che lavorava molto per tutto quello che era il lavoro duro di allora che non c'era niente quindi ti ho visto lavorare nel campi ti ho visto lavorare con la preparazione del cibo con lavare questi panni no a mano e tutto quindi una vita veramente molto di fatica però anche molto bella perché molto bella perché servivi comunque Dio quindi comunque la tua idea era anche quella di avere sempre Dio vicino che era quello che ti dava forza andiamo da Elena Brambilla allora Elena Brambilla io ti vedo in una Scozia anche te più o meno può essere Scozia grandi linee del 1400 ho visto che eri una donna molto ricca e molto capricciosa t'ho visto molto anche molto superstiziosa a dire la verità eri sposata con un uomo anziano da cui hai avuto tre figli non eri propriamente felice perché tra il fatto che eri così capricciosa tra il fatto che eri sposata con un uomo molto anziano e tra il fatto che eri così tanto superstiziosa tu capirai che una superstizione di questo tipo ha fatto sì che tu avessi veramente poi pochissimo di pochissimo spazio alla serenità perché qualsiasi cosa poteva renderti una persona insicura dalla pioggia che veniva in un certo modo dalla fiamma che si accendeva in un certo modo veramente eri un po' un po' impaurita ecco poi abbiamo Alex Alex H I sigli vabbè Alex ho visto che eri una donna tailandese e ti ho visto fare le piedine la piedina proprio il pane in queste specie di testi per terra con le gambe messe così al centro c'era questa braccia con il paiolo sopra e tu facevi queste piadine specie di piadine per le persone posso dirti che il classico velo addosso quindi sicuramente proprio tailandese tailandese non ti ho visto né con un viso sofferto né con un viso sereno però ecco quindi molto molto così visto solo quello mi spiace Katia Merenda allora Katia ti ho visto nella Spagna intorno al 1600 e ti piaceva tanto ballare ho visto che eri un uomo che amava ballare il tango il flamenco anche te l'ho vista e due il flamenco questa volta è molto molto bello Katia un uomo con un grande fascino non bello ma sicuramente dotato di una grande un grande carisma specialmente per quanto riguarda vivere la vita ma perché comunque sia il vivere le vita vivere il flamenco vivere la musica e le tradizioni spagnole è stato veramente molto secondo me è una vita molto bella non ho visto non sono riuscita a vedere se avevi figli se eri sposato non ho visto nulla l'ho visto solo così nelle vite precedenti i flashback che mi arrivano sono flashback che mi arrivano anche spesso e volentieri dall'oltre e vogliono essere anche un modo per darvi un messaggio che io adesso sinceramente non capisco poi io ve lo dico e poi vedrete voi se è possibile fare questo ecco ciao Anna Maria parlavamo appunto dell'oltre adesso che sei arrivata Anna Maria ha Gianluigi che si trova di là che ogni tanto parla con tante persone che sono di qua a prova che chi è di là vive e molto spesso molto più di quanto non facciamo noi dunque andiamo al Silvia Gianguzzo ti ho visto in Cambogia ho visto che come donna ti costringevano a seguire dei riti particolari ho visto che eri in questo tempio e dovevi seguire delle rigide regole che però tu odiavi follemente io spero che in questa vita non debba più avere queste queste chiusure queste rigidità che avevi invece nel passato come vedete sono sono proprio dei flash ok andiamo da Angela Baccargio allora Angela Baccargio ho visto che eri una donna indigena in Australia quindi australiana indigena proprio nel vero senso della parola ho visto che hai portato per la maggior parte della tua vita odio perché odio perché sono arrivati gli esploratori e hanno portato morte e una religione strana in mezzo al tuo popolo e questo tu non hai potuto non hai potuto sopportarlo quindi tutto quanto nella vita precedente parliamo era estraneo al tuo mondo al tuo confine tu hai fatto molta fatica a sopportarlo perché sì che potevano portare anche in un certo qual modo conoscenza e benessere ma a fronte di quale prezzo tu hai visto solamente davvero che hanno portato malattie morte e una forma di religione che tu io la capisco la mia però tu come indigena australiana non capivi assolutamente perché parlavano di scoccia dietro perché sono religiosa cristiana però questo è stato il flash che ho avuto parlavano di un di un uomo assassinato su un pezzo di legno mentre la tua religione invece era di uno spirito del dio sole e di sorella luna proprio ecco quindi non avevi niente di così macabro che poi invece la cristiana posso dire che in realtà è il più grande mistero il più grande miracolo vedere Cristo vabbè non voglio fare una cosa religiosa io adesso allora andiamo da Barbara Baldelli Barbara Baldelli ti ho visto nella Repubblica Dominicana Santo Domingo ti ho visto sposata con un uomo alto locato che tu adoravi alla follia in un'epoca lontanissima e avevi tanti merletti avevi un vestito con tantissimi tantissimi merletti molto bello in realtà sembrava che avessi dei centrini fatti all'uncinetto ecco vabbè però era molto bello lo amavi alla follia spero Barbara Baldelli che tu possa averlo rivisto anche in questa vita andiamo da Juicy Expo Expo scusami ho pronunciato malissimo il cognome vabbè non fateci caso Juicy allora ho visto che eri di origine africana che sei andata schiava in America quindi al tempo della schiavitù in America ho visto anche che eri una persona molto sensibile che hai sofferto tanto e a lungo proprio per i tuoi sentimenti quando hai finito la schiavitù tu ne sei uscita però finalmente vittoriosa quindi il tuo essere triste era dato solamente dalla tua condizione non dalla tua testa perché ho visto persone ad esempio che ho visto che nelle vite precedenti sono state degli schiavi quando però hanno finito la schiavitù loro si sono ancora sentiti schiavi dentro invece nel tuo caso non è così beviamo ancora un pochino Antonella e Vitelli gli italiani arrivano dopo ce ne sono un bel po' sai quando si parla di spiritualità vite precedenti tutto si pone sempre un piccolo punto interrogativo almeno io me lo pongo sempre no anche perché so che nel mio caso quando prendo le persone per vedere le loro vite precedenti come per quando devo dare dei messaggi dell'oltre sono sempre dall'oltre che mi danno gli input e ho visto pochissimi italiani a dire la verità veramente pochissimi e poi ha pensato che l'Italia in confronto al resto del mondo è molto piccola è come se spaziando ti potessi dire delle isole l'isole della Sardegna ecco come la Sardegna è piccola in confronto a tutto il resto del mondo è pur vero però Antonella Vitelli che io vedo una sola vita mentre noi ne abbiamo avute tantissime e probabilmente sicuramente saremmo stati in Italia o prima o dopo un po' tutti quanti come la maggior parte di noi ho visto che è di una popolazione egiziana o un'africana solo che a me viene dato da vedere solamente una vita ecco poi a dire che in realtà non so nemmeno perché è quella perché è un messaggio che mi danno dall'oltre neanche comunque per me questa è la mia o mio piccolo parere poi non è detto che sia vero ecco ci mancherebbe questo è solo per la mia esperienza professionale cioè professionale cosa dico la mia esperienza ecco come medium non la di più quindi assolutamente è discutibile e con tante opinioni da metterci la tua voce grazie è che ho la voce bassa perché ho l'allergia e più parla e più mi si abbassa mi si abbassa meglio bassa che non sentirla allora Cristina Calloni allora Cristina ho visto che eri una donna in un'epoca dei saraceni ok quindi siamo proprio in Turchia ho visto che eri molto forte perché hai insegnati i tuoi figli ad essere dei buoni combattenti cioè a essere liberi però essendo che prima non si era liberi perché si studiava si diventava liberi quando si era dei bravi combattenti e quindi tu hai insegnato i tuoi figli a essere bravi combattenti per poter essere liberi in quell'epoca ma soprattutto avere un qualcosa che adesso si è perso molto che si chiama onore quindi hai insegnato Cristina Calloni ai tuoi figli il senso dell'onore andiamo a Jenny Vesprini allora Jenny qui siamo nella Francia del Medioevo eri una sorta di frate tieni conto che hai aiutato molto i poveri molto quindi la tua il tuo modo di essere il tuo modo di essere frate era veramente dove c'è carità e amore qui c'è Dio no? hai aiutato talmente tanto i poveri però che ti sei ammalato perché non mangiavi quindi per far mangiare i bimbi poveri non mangiavi tu questo ti ha reso una vita molto onorevole breve Jenny ma molto d'onore appunto questo è il vero onore secondo me vero? come sta andando? vi piacciono queste vite precedenti? allora certo che sentimi parlare 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 non vi stancate? Laura Anna Agostini allora Laura Anna Agostini eccola qua siamo arrivati a un'italiana andiamo ecco Daniela se non sei stata scelta st'altra volta quando io metterò il post delle vite precedenti se vorrai metti una tua foto la tua data di nascita e me lo scrivi è la seconda volta che provo così io ci faccio più caso rispetto agli altri no? giustamente ma era framparivo allora Laura Anna Agostini abbiamo detto che siamo in Italia finalmente in pieno romanticismo io ho visto però che eri nel boschi del Veneto e in questi boschi del Veneto eri una sorta di maga delle erbe avevi molto rispetto del bosco Laura Anna Agostini e dei suoi abitanti quindi tu credevi non ha torto che il bosco che il bosco fosse magico brullicava di ilfi di gnomi di fate adesso sappiamo che è veramente così perché è veramente così io ne ho visto uno una volta mi sono spaventata tantissimo perché non me l'aspettavo avevo fatto una meditazione con ciao ciao Clara ciao tesoro ho visto avevo fatto una meditazione con Sara Verderino e che parlava appunto di poter ampliare le nostre percezioni guardando il bosco per il bosco e gli abitanti del bosco e ho guardato ho fatto questa meditazione vabbè entro di che a un certo punto io vivo nel bosco ho una casa praticamente che ho le piante che mi entrano dalle finestre e ho visto proprio sembrava all'inizio un insetto stecco quelli di legno e poi santo cielo no perché lui si è girato ma guardate gli ho visto gli occhi aveva anche un capellino sembrava strano ma ce l'aveva ora non mi prendete per pazza ma veramente l'ho visto quindi io sono rimasta pietrificata ho detto sto diventando pazza lo sto vedendo davvero sto coso lui come ha capito che io l'avevo visto ha cominciato a correre saltellando su questi stecchi di legno che aveva come gambe e non era un insetto stecco perché aveva gli occhi il naso la bocca tutto solo che era fatto di legno di legnetti una cosa che mi rimarrò in presso una vita comunque Laura Anna Agostini ecco qua che era una donna nei boschi del Veneto e è una sorta di maga delle erbe quindi curavino con queste erbe Francesco De Bonis a proposito di divise perché ho visto un'altra persona qua che fa un lavoro nell'arma onore a te Francesco De Bonis allora nella vita precedente ho visto che comunque continuavi ad essere un valoroso soldato che però aiutavi i tuoi compagni nell'ombra ho visto che hai costruito la tua vita molto lentamente con cura sia per la tua carriera andavi lento sia per il tuo lato finanziario sia per la scelta della donna che avrebbe dovuto essere la tua famiglia Francesco De Bonis quindi ho visto che siamo nell'arma visto che non hai cambiato di molto perché il soldato un soldato cileno del 1800 circa che ti portavi avanti diciamo una carriera lento 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 perché forse vi è pur non so di sbagliare oppure vi è piacere di fare le cose con calma ok e quindi sì assolutamente anche nella vita precedente ok grazie di questo feedback allora andiamo da Antonella Bisi Antonella Bisi ho visto che eri un navigatore al pari di Magellano per darti l'idea quindi una vita alla ricerca del successo personale ho visto che eri però hai avuto un percorso meglio dire una rotta in questo caso perché navigavi piena di ostacoli lunga pericolosa insomma per raggiungere la meta hai fatto tanti sacrifici hai dovuto prendere tanti pericoli e superare tanti ostacoli però poi quando arrivavi alla meta eri comunque felice sei rimasto single per forza di cose perché è troppo pericolosa questa vita per poter avere una compagna come ti dicevo all'epoca di Magellano siamo arrivati alle 5 abbiamo ancora un altro retto insieme come va tutto bene mi piacciono sempre sì è vero mi sentite bene ogni tanto chiedo anche dei feedback se mi sentite mi vedete bene perché la la connessione qua io sono sulle alture della Liguria e il tempo non è propriamente dei migliori ecco quindi chiedo sempre se mi sentite ho visto anche nelle flashback precedenti tante persone delle isole isole carabiche e roba del genere eccomi qua ok perfetto grazie mille ragazzi Sonia Taglietti andiamo da Sonia ho visto ho visto un mare incontaminato ho capito che erano i Caraibi ho sentito il sole ho sentito questo caldo ho sentito la sabbia calda e morbida sotto i piedi questo profumo questo profumo fortissimo nell'aria questo vento e ho visto che vivevi libera nelle tradizioni della natura nel senso che ho capito che tu vivevi in un villaggio che aveva il proprio credo nella natura che vedeva che può essere che ne so il dio sole la madre terra ecco quindi vivevi libera ma nel rispetto totale di tutto quello che poteva essere questa cosa naturale ecco Paola Rolta non mi ricordo se ti ho detto se ti ho scritto di sicuro ecco quindi nel caso vedrai la registrazione come mi piace Isabella Allende la casa degli spiriti mamma mia penso che tutti i medium non possono non aver letto questo libro meraviglioso che è al pari del film No Solare ecco Stefania De Clesis mi dice ma quando hai questi flashback entra all'interno del flashback no dunque te lo dico come lo vedo ecco nel senso che io sono una viaggiatrice astrale Stefania De Clesis e come viaggiatrice astrale viaggio posso viaggiare nelle vite precedenti quindi vado indietro molto posso andare nel passato nel presente o nel futuro delle persone oppure faccio anche dei viaggi nell'oltre no e quando faccio i viaggi nell'oltre però sono loro che vengono a parlarmi non sono io che li chiamo in differenza di molte medium prestigiose come li vedo e come vedere il flashback è come quando tu vedi un film o qui è meglio è più breve di un film quando vedi uno spot alla televisione che lo puoi vedere con i cinque minuti oppure lo vedi un minuto solo o cinque secondi ecco quindi sono in realtà essendo una viaggiatrice astrale come tutti i viaggiatori sono in realtà un'ospitatrice credo di avere risposto bene al tuo sì Alex H W sì ti ho già detto vedrai la registrazione mi ricordo di te per il cognome ok allora Silvia Marsella andiamo da Silvia Marsella visto che eri la parola che mi è venuta combattente abavi il denaro e i vestiti essendo un nobile ma sapevi che era anche una facciata che avevi per nascondere la tua profonda spiritualità sì 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 certo li sento Stefania di Eclesis ho la percezione proprio assolutamente sì anche perché quando scusate se mi sono interrotta quando vado a fare l'aspettatrice però ovviamente è un'aspettatrice che va anche a vedere i sentimenti delle persone no quindi quando vedo una persona che capisco che magari è molto triste solamente il viso non si capisce quindi è una cosa che si percepisce la tristezza perché quando si parla di spiritualità comunque sia che sei viaggiatrice sia Stefania che sei medium sensitiva però tutte ci accomuna secondo me è un'unica cosa che noi non parliamo con il corpo con la voce ma noi parliamo con lo spirito quindi è il mio spirito che va e ovviamente parla con lo spirito degli altri siano essi dall'altra parte oppure no molto semplicemente ciao Lilli Allora Silvia Marcella che ci siamo interrotte abbiamo detto che eri un combattente che amavi molto il denaro e i vestiti quindi tutto di facciata essendo un nobile ma questo era per nascondere la tua profonda spiritualità questo però ti dava poca fiducia in te stesso e combattevi per conquistare più che altro ciò che sentivi perso dentro di te per questo eri molto in conflitto tra te dentro ed esterno ecco per cui lo combattevi ma questo tuo combattimento era semplicemente per nascondere una grande spiritualità ripeto dentro di te epoca beh siamo nell'impero austro-ungarico spero Silvia Marcella che tu sia riuscita a trovare un equilibrio in questa vita tra fuori e dentro tra il combattente che sei fuori e la spiritualità che hai dentro Simona certo sono ci mancherebbe non da piccola io ci sono proprio nata così quindi per me è una cosa è come le persone che nascono bionde con gli occhi azzurri che scoprono che gli altri sono mori allora dici come mai sono tutti mori mentre io sono bionda e in quel momento che sai che c'è qualcosa di diverso quindi sì sin da piccolissima da che mi ricordo allora il primo viaggio che ho fatto il primo viaggio che ho fatto Simona certo ero piccolissima non era un viaggio ma era un ricordo di me stessa e questo lo so perché me l'ha detto mia mamma che parlavo in italiano antico quindi una bambina di tre anni che parla come Dante non è era un po' particolare quindi da lì però diciamo un viaggio proprio viaggio ho fatto un viaggio nel in una forma presente come tempo per andare a vedere una persona che interessava la mia famiglia sapere come stava cosa faceva e avevo all'incirca cinque anni ecco però io pensavo fosse una cosa normale come facevamo tutti tutto qui ok allora andiamo da sì abbiamo detto abbiamo fatto Silvia Marcella adesso andiamo da Stefania sei tu Stefania De Clesis no Simone certo scusa mi confondo tantissimo vabbè siete tantissimi Stefania De Clesis ho visto che eri un uomo sotto l'impero di Gengis Khan ok e eri forte molto forte molto bravo molto dettato da questo regime assolutamente però ragazza mia io ti ho visto tanto solo proprio solo senza familiari senza solo molto solo quindi tutto questo tuo essere bello sotto Gengis Khan per l'amor di Dio eri con l'impero quindi eri in una posizione anche molto buona da un punto di vista proprio come soldato come tutto però Stefania no Gengis Khan no no non l'ho visto l'Egitto dicevo prima Stefania che io vedo solo una vita poi della maggior parte di voi maggior parte di noi siamo stati in Egitto abbiamo avuto vite spesso in Africa però a me è dato di vedere una vita in particolare un flash e mi viene dato un po' dall'oltre quindi anche come un messaggio e in questo flash io non ti ho visto in Egitto bensì nell'impero di Gengis Khan ok molto io ripeto una personalità un uomo molto forte però molto molto solo non sono riuscita a vedere altro quindi tieni contro che eri in questa squadra di morte poi perché andavi sempre a combattere per cui io Antonella Vitelli so delle mie vite precedenti ne so una molto molto in particolare molto esatta quando si fa la regressione delle vite precedenti io non l'ho fatta nel senso di ipnosi o quant'altro perché non cioè sapevo già come sarebbe stata la la mia vita almeno una che era quella che mi interessava di più perché è quella che poi mi ha caratterizzato l'insegnamento che devo proporre in questa tutte le altre invece sono flash di quello che tu puoi essere quello che potevo essere stata ediziana eccetera eccetera ti faccio un esempio giusto per capirci giusto per curiosità niente di più Stefania però faccio un esempio nella mia vita precedente quello che ti posso dire perché dell'altro non ti dico in quanto è la privacy e nella vita precedente io sono morta di tubercolosi all'età di 42 anni no e quando sono rinata in questa vita si parlava con le persone che mi conoscono e dicevo mamma mia 42 anni speriamo che in questa vita ce la faccio no chissà quando ho compiuto i 42 anni ero contenta perché comunque in questa vita avevo già compiuto i 42 anni se non che da lì a poco ho avuto una bruttissima malattia che si muore al polmone che mi hanno tolto e sono rimasta invalida e ho sputato sangue tanto però sono sopravvissuta e questo è stato un insegnamento no perché mi ha avvicinato ancora di più a quello che a me mancava nella vita precedente ovvero una fortissima spiritualità spiritualità intesa però come religione nel mio caso e queste quattro fatta questo piccolo racconto continuo con voi che sono che siete molto più interessanti di me signori allora andiamo da Anna Padalino Anna Padalino è una donna creola ti ho visto andare a cavallo praticamente tra due mondi e non ti sei mai sentita veramente accettata c'è da dire che usavi molte maschere Anna Padalino in questa vita che ho visto come donna creola più che altro per riuscire a piacere agli altri perché non ti sentivi né spagnola né africana sei andata a vivere in America e non eri né da una parte né dall'altra le persone ti accettavano una parte sì di te l'altra no quindi alla fine tu cosa hai fatto hai cominciato a capire che forse queste maschere che tu mettevi ti davano una una buona conferma da parte degli altri che così tu hai continuato tutte queste maschere però ti hanno fatto perdere la tua vera essenza purtroppo Oh Alina Cosmano non ti dispiacere ti ringrazio io se tornassi indietro rifarei questo percorso altre 50.000 volte perché è dal dolore che tutti noi impariamo una lezione bellissima quindi non ho mai visto come il dolore come qualcosa di brutto anzi sono delle lezioni che ti avvicinano di più al mondo dell'oltre sempre di più hanno fatto anche diversi relatori su Bridges proprio un tema incentrato sulla la potenza del dolore anche Anna Maria Squeri con suo figlio Gianluigi dicono appunto questo no? cioè voi infatti io faccio sempre un esempio no signori quando noi nasciamo noi nasciamo dal più grande dolore al mondo il parto però e quando la nostra mamma ci vede abbiamo il più grande amore del mondo i più grandi in assoluto non ce n'è nessuno più grande di quelli eppure pochi secondi prima eravamo nati con il più grande dolore del mondo la più grande sofferenza che si può avere no? ed è così c'è la vita come la vedo anche per quanto riguarda l'oltre allora allora abbiamo fatto Anna Padalino avete visto che abbiamo molto più tempo oggi stiamo insieme fino alle 18 parliamo con calma senza andare di corsa a parlare tutte le vite veloci 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 invece no ogni tanto sbevacchio perché ho la voce che ma no non penso oh non mi ricordo allora Morena Silvestri se vi salta la comunicazione quant'altro sappiate che tutte le persone che io ho risposto al vostro post con la foto siete presenti qui in questa diretta a chi non ho risposto non siete presenti se vi perdete dei pezzi sappiate che c'è la registrazione che potete vedere su Bridges quando volete torniamo da Rodica Rodi Ungureanu detto bene? ok allora ho visto che eri un'indiana d'America e avevi accanto a te un popolo molto unito e molto forte poi tu ovviamente eri molto amata da tutto il tuo popolo indiano che non era solamente un discorso solamente i tuoi figli o tuo marito lo sposo lo chiamavano così proprio tu eri amata da tutto il tuo popolo in assoluto quindi Rodi eri un'indiana d'America e con tutte le annessi connessi no? quindi sciamanesimo ciondolini piumette eccetera eccetera tutto quanto riguarda ovviamente anche la parte spirituale degli indiani d'America andiamo da Vittoria Vaccaro ho visto dei campanellini nelle caviglie din 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 poi ho guardato meglio ti ho visto questa veste è molto leggera e molto colorata e ho capito è Sri Lanka ok quindi ho visto che eri una donna dello Sri Lanka il fatto di vedere questi campanellini mi fa ben pensare che o tu danzavi o quant'altro perché sento proprio sentivo il din 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 dei campanellini che forte Mariana che stai lavorando e sei in sottofondo solo in sottofondo vuoi che ti metta la radiolina ci ho pensato perché alcune hanno la musichetta sotto ma mi viene metà la musichetta vabbè e quindi insomma ti dicevo ho visto solamente che ero delle Sri Lanka con questi vestiti colorati non ho visto oltre purtroppo alcuni sono molto veloci con i flash altri sono un po' più lunghi bello Rodi vero mamma mia bellissimo indiana d'america bellissimo amata dal suo popolo sì molto bello andiamo da Rosie Marcon che ho visto che ha messo anche tre post non potevo non vederti di certo infatti vi chiedo st'altra volta se fosse possibile una sola foto per post perché altrimenti ne vedo spesso dei vostri e mi incasino un po' allora Rosie Marcon siamo in Italia cosa ho sbagliato scusate Katia Silvestri Angele Reiki sto rispondendo a Morena Silvestri ho sbagliato qualcosa ma non mi ricordo se l'ho saltata l'ha chiamata si è confusa mi ha chiamato subito un'altra Morena è mia sorella non so io ho fatto il nome del profilo può essere che ho sbagliato vabbè ditemelo è nel caso e vediamo il nome poi perché sono veramente tanti ne ho presi circa 70 si siete in 70 quindi impossibile ricordarmi ok può essere che mi sono confusa o può essere io prendo solo il nome del profilo non non prendo quelli il nome che mi mettete della foto lo vedo come visione ecco semmai andiamo da Rosy Marcon abbiamo detto allora Rosy ho visto che eri in Italia ovvero nel rinascimento ti ho visto fare dei mosaici quindi penso che Ravenna sia sicuramente un posto che ti può ricordare qualcosa eri un uomo ti ho visto solo fare mosaici e non ho visto altro ecco buon pomeriggio Antonio abbiamo Angela Denise vincitore ho visto che eri una Angela Denise vincitore ho visto che eri una donna dell'impero romano ho visto che per lo più cucinavi ok e tu eri apprezzavi per così dire i piaceri della tavola e del talamo nonunziale detta in maniera molto leggera ecco quindi i tuoi grandi piaceri in questa vita erano proprio questi due la cucina e il talamo non ho visto altro ho visto felice perché non ti mancava né uno e né l'altro andiamo da Lina Cusmano allora ho visto un'Australia ho visto l'Australia tu ho visto che eri inglese ho visto che eri un colonizzatore ho visto che eri rivestita con un tipo di cappello di paglia tipo paglia e devo dirti che in questa vita malgrado tu fossi un colonizzatore hai acquisito per saggezza la sapienza degli indigeni del posto per le cure sia del corpo che anche dello spirito ma soprattutto anche per valorizzare quello che erano i campi perché chi meglio degli indigeni stessi potevano conoscere la propria terra no? quindi diciamo molto 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 bello un'esperienza che ti sei fatto tramite gli altri no? ok intanto guardo sì sì esatto una sciamana direi Rodi una sciamana oh cosa mi sono confusa Katia Silvestre cosa mi sono confusa cosa è successo non mi ricordo se ti ho già fatto Rosalba di Stasi perché sono ne ho presi 70 e sto andando giù con tutti i nomi tutti i nomi quindi non mi ricordo ok bene io devo andare adesso veloce perché me ne mancano ancora un pochetto e alle 18 abbiamo finito quindi adesso inizierò a parlare molto molto veloce e non vedrò più i vostri commenti perché ho piacere di rispondervi un po' a tutti come avete visto Loretta è volata io poi vedrò i vostri commenti e i vostri feedback alla fine della trasmissione andiamo da Ornella delle Monache Ornella delle Monache ho visto che eri un ragazzo con troppo entusiasmo veramente troppo per cui hai rischiato molto ti ho visto in una nave corsara di pirati ti ho visto che eri molto giovane ho visto che eri sprezzante del pericolo ma con tanta tanta passione per il mare una vita molto avventurosa certamente ma avventurosa vuol dire anche prendersi Ornella dei rischi purtroppo ho notto visto giovane ma non ho visto non ho visto oltre ok ok andiamo da Martina Meduri allora Martina ho visto che sei andato come volontario nei paesi asiatici una sorta di tipo missionario della carità tienimi il nome madre Teresa di Calcutta ok missionario di questo tipo ed eri veramente vicino a Calcutta e hai vissuto questa vita da missionario nei paesi asiatici andiamo da prego grazie a te Ornella grazie dell'attenzione ho visto Simona certo eccola qua Simona ti ho visto che ero un insegnante spagnolo del secolo scorso avevi molto molto ben impressi i tuoi obiettivi Simona certo però con alcuni studenti davi tanto amore ma non eri uguale con tutti quindi proprio non ti riusciva farti piacere tutti gli alunni proprio no vi veramente delle delle grandi distinzioni all'epoca come maestro secolo scorso insegnante andiamo da Maurizio Caruso Maurizio visto che era un esploratore francese delle isole caraibiche ho visto che lì hai trovato la tua donna ideale e con lei invece di finire la tua vita stanno lì nel suo paese con lei invece ho visto che hai proseguito con lei nei tuoi viaggi quindi te la sei portata dietro no molto bella Monia Longarini oh Monia ho visto Monia che eri un neonuco è uno di quelli che stanno nell'areme con le donne e un unuco quindi sono inoffensivi non fa niente e ho visto che odiavi lo stato in cui erano costrette le donne quindi vedere questo modo di tenere le donne è una cosa che tu odiavi ma odiavi anche la tua costruzione cioè quello che a te avevano fatto hai fatto di tutto però per migliori potevi un po' la situazione anche ora parli lo spagnolo davvero vabbè maestro grazie del tuo feedback e e quindi cercavi comunque ti dicevo Monia di migliorare un po' la situazione possibile la tua quella delle donne che erano nell'armi eccetera eccetera Orietta Giorgio che forte Orietta Giorgio mi sembrava di vedere il film Il Gigante nel senso che ti ho visto un vero cowboy con la mandria e che cercavi di spostarla da un posto all'altro i classici cowboy che spostano le mandrie ti ho visto correre in queste praterie col cavallo correre in queste praterie bellissime ho visto la libertà e per te la libertà era il massimo infatti poi hai deciso addirittura di non sposarti perché per te la tua libertà era la tua libertà ok giusi giusi andreghetti allora giusi ho visto che eri in Brasile ho visto che eri portata per tenere bene i giardini delle persone gli animali delle persone avevi anche una fattoria e facevi tutto da te cosa vuol dire tutto da te che malgrado donna facevi gli steccati facevi il legno facevi gli utensili i tegami tutto tenevi dietro gli animali che il più delle volte non mangiavi anzi 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 ti ci affezionavi li volevi bene a tutti quanti facevi tutto così con una vita proprio nella natura allora Veronica Bruno invece ho visto una cosa molto bella eri un avvocato dei tempi antichi tra Portogallo e Spagna e ho visto che facevi una cosa molto bella che sai che gli avvocati di solito non è proprio così però tu aiutavi anche i contadini con le tasse cioè se potevi trovare una formula per farli pagare meno o tutto quanto benvenga perché la facevi trovare ecco quindi aiutavi veramente tanto queste persone sulla base delle tue conoscenze Melania da Agata allora Melania siamo in Israele siamo prima di Cristo ho visto che seguivi le regole imposte dalla legge di Mosè però ho visto che le hai vissute tutte molto molto serenamente perché non volevi avere problemi o fastidi quindi forse non eri d'accordo su alcune cose però per evitare fastidi o problemi andavi comunque avanti senza dire nulla Claudia annunziata ho visto le isole Solomon in Papa Nuova Guinea bellissimo ti ho visto scalza ti ho visto libera bellissimo l'unica cosa che si è stata costretta a fare delle scelte per colpa di tuo del tuo sposo quindi diciamo che vivevi in un posto bellissimo però ti sentivi schiava dentro ok anche adesso vi molto gli animali bello bello grazie Giosi di questo feedback fa sempre tanto piacere e quindi Claudia invece annunziata era in queste isole bellissime però a seguito di un marito uno sposo molto che la teneva sotto lei si sentiva veramente molto molto schiava malgrado il posto bellissimo andiamo da Morena Silvestri sarà stata questa Morena che parlavate prima non mi ricordo Morena Silvestri ho visto che eri donna ho visto che eri in Kenya ho purtroppo visto che eri avevi subito l'infibulazione c'è da dire però che ho visto che ti sei ribellata per fortuna tu nella tua vita hai avuto poi figli maschi quindi non hanno dovuto subire quello che hai subito tu come donna come femmina però hai cercato di salvare le altre bimbe del tuo villaggio dicendo che erano già avevano già fatto questa cosa quindi facevi in modo in maniera che sembrava che avessero fatto un'infibulazione che poi non era vero ok quindi una cosa veramente bella se ci pensi no Morena perché veramente cioè per l'epoca cercare di ingannare quindi tu hai ingannato a fronte di un bene più grande cioè quello di non far subire alle bimbe del tuo villaggio quello che avevi subito tu nell'infibulazione no quindi è vero che gli facevi del male perché per forza dovevano avere dei segni ma non avevano quel segno per farle morire ecco quindi tu le davi un'idea che poteva far capire che l'avevano fatto anche loro però in realtà non lo facevi una cosa molto molto nobile da parte tua però per fortuna ti ripeto a te come madre non è toccato vedere questo problema di tua figlia grazie grazie Katia perché eri avevi avuto solo figli maschi Maddalena russo ho visto che eri una geisha giapponese beh geisha ok ho già detto tutto c'è da dire però che continuando nel mio flashback ho visto che un uomo si è innamorato di te e ti ha portato via da quella vita quindi il finale è stato bellissimo Marianna Mazza ho visto l'Italia di nuovo quel poco in Toscana rinascimento ho visto che ho visto che eri amato da un uomo molto ma ho visto che eri amato anche dalla sorella di quest'uomo una sorta di lesbica dei tempi andati e questa donna questa sorella di quest'uomo era talmente gelosa che piuttosto che darti a suo fratello ti ha avvelenato non mi è piaciuta molto questa vita che ho visto andiamo da Laura a Miledi a Laura ho visto l'Amazzonia ti ho visto amante degli animali di tutte le specie ti ho visto vivere in mezzo al verde in mezzo alla natura e ringraziare tutti gli animali che ti circondavano anche quelli che dovevi uccidere per mangiare quindi in Amazzonia sto andando veloce perché siamo quasi alla fine della nostra diretta Barbara Pepe ti ho visto immigrata in America ti ho visto bimba ho visto New Orleans ho visto che sei diventata poi una cantante e una ballerina andiamo da Graziella Gambuzza che forte ho visto che eri un pugile un pugile del secolo scorso americano eri sempre al centro dell'attenzione eri molto onesto e molto molto sportivo Silvia Sertorio Silvia siamo nel pieno anche te nel pieno rinascimento e ti ho visto che eri sempre insoddisfatto sempre nella ricerca sempre nella ricerca non eri mai stabile hai girato tutta Europa anche con pericoli per inseguire un sogno ma quale io sinceramente non te lo so dire sei rimasto ma se è rimasto così alla ricerca di non so cosa dire la verità è perennemente insoddisfatto non so se poi Silvia in questa vita sei riuscito a trovare un tuo equilibrio o un tuo vero sogno un tuo vero sogno ecco andiamo da Luciana Rossi che ho visto eri una nobile donna nei fine ottocento inglese ho visto che eri serena dopo molti anni perché hai trovato l'uomo giusto quindi ti sei costruita una vita in tarda età non prima perché sei stata vittima dalla tua famiglia d'origine di sopprusi e di costruzioni mi spiace Maria Anna Mazza però puoi sempre cambiare la tua vita siamo noi che decidiamo di essere amati davvero siamo noi che decidiamo andiamo da Sandra Sandrina Marta so che hai avuto un input dall'oltre che appunto dovevo darti questo feedback della tua vita precedente infatti come stavo dicendo i miei feedback i miei viaggi , molti sono guidati anche dall'oltre ho visto che eri moglie di un capo indiano americano e quindi qui si parla veramente di sciamanesimo all'ennesima potenza proprio tutto quanto era un canto per il contatto con ciao Sandra eccoti qua per il contatto con il grande spirito quindi quello che potevano essere le tende erbe per erbe per attivare l'estasi quello che potevano essere i canti i riti sciamanici beh avendo tu la moglie di un capo indiano avevi un'importanza in questo ruolo molto forte Maria Laura Farina eccoti qua allora Maria Laura ho visto le isole Bahamas ho visto l'epoca dei pirati ho visto che avevi una locanda che vendevi del rum che odiavi tutti gli uomini e preferivi di gran lunga stare in compagnia degli animali piuttosto anche i maiali che stavano nello sporco però preferivi stare lì perché erano sicuramente molto più simpatici e molto più puliti delle persone che frequentavi Loredana Doria Loredana mi ha fatto tenerezza hai presente Mami la tata di Via Colvento ecco tu eri uguale ti occupavi dei bimbi di casa della loro istruzione l'unica cosa che non eri di colore ma eri bianca l'epoca era uguale Simona Brandt Simona ti ho visto che eri un grande oratore nell'America degli anni venti eri capace di individuare ciò che l'opinione pubblica voleva e quindi sei diventato pure un bravissimo giornalista e poi un politico andiamo da Lucia del Donno ho visto che eri una suora superiore in un convento all'incirca del cinquecento che poi hai trasformato in una casa rifugio per bimbi orfane e ragazze madri non le giudicavi a differenza delle tue consorelle ma anzi le aiutavi e basta quindi veramente un'ottima vita devo dirti anche che stranamente come suora superiore non è che ho visto tutta questa religione forte ho visto più una religione pratica nell'ambito di tante cose che tu facevi per il benessere di queste persone e questo mi ha molto sinceramente mi ha molto toccato ok ci siamo quasi gli ultimi dieci Paola Rota ok Paola allora ho visto che ti sei sentito innanzitutto eri un uomo nel sud del sud Italia posso ipotizzare Sicilia diciamo come epoca abbiamo ho visto in Italia Garibaldina ok e ti sei sentito investito nella missione di sostenere i diretti della tua famiglia delle tue tradizioni e di raccogliere gli avvenimenti della tua terra quindi tutto quanto quello che riguardava un discorso di tradizioni di espandere le tue tradizioni farle conoscere e poi prolungarle no tradizioni che non sono non dovevano essere solo della tua famiglia ma anche della tua famiglia di tante altre persone ecco la tua terra proprio le tradizioni della tua terra rosalba di stasi ho visto che eri una nobile donna austriaca sposata con un signore della germania hai sempre combattuto contro la famiglia di lui e i suoi parenti e i suoi amici anche perché non ti hanno mai accettato perché tu eri proprio straniera in terra straniera e non ti hanno mai mai voluto quindi hai vissuto una vita per una scelta d'amore troppo frettolosa purtroppo faticosa per la famiglia di lui Danila Baleari ho visto che eri intorno alla tieni conto intorno a un quattrocento non mille quattrocento quattrocento e ho visto che eri in mezzo a un popolo di colore ma eri l'unica donna bianca per l'epoca difficilissimo però t'ho visto molto giovane e non ho visto altro quindi t'ho visto su t'ho visto difficile con una vita così un flash è molto difficile un popolo di colore su una donna bianca fa fatica ecco ah bene Antonella Vitelli ho visto l'andalosia dell'ottocento ti ho visto che eri un'ottima cavallerizza e una bravissima ballerina sei stata un'ottima moglie Antonella e un'ottima madre e mandavi avanti la fazenda in modo veramente splendido quindi una vita all'insegna dell'allegria e proprio del godere la vita stessa Azzurra Caracci ciao Dani Azzurra Caracci ho visto che ridei nei paesi arabi e sei poi andata ad abitare in Egitto ad emigrare in Egitto ma sei rimasta nelle tue tradizioni e nella tua religione quindi anche se ti sei spostata non ti sei allontanata troppo Diamante AFB Beatrice ho visto per te un'epoca romana ho visto che eri molto bravo a compiere opere per così dire di lunga durata come potrebbero essere costruire i pozzi costruire le strade gli acquedotti purtroppo però ti sei perso un po' perché ti sei sempre sentito troppo importante e tutta questa importanza che ti davi da solo bravo per l'amor di Dio però un po' troppo e questo tuo carattere ha fatto sì che tu sei rimasto solo abbiamo ancora Patrizia Cosentino io ho visto una donna vivere nel deserto dei Gobi col popolo dei mongoli ho visto che hai sofferto molto per amore perché gli uomini si uccidevano per te la cosa veramente sì che eri molto bella sì che non c'erano tante donne però veramente insomma tanto l'ultima valeria a ponte ho visto che eri una nobile ed eri nobile anche come persona perché la tua parola quando tu davi la tua parola per te la tua parola era legge dettavi la moda in una Francia del settecento eri un uomo molto ricco ma come ti dicevo anche molto molto onesto perché giustamente davi la tua parola la tua parola per te era come firmare un contratto di adesso bene signori noi abbiamo trascorso queste due ore come avete visto insieme abbiamo visto tante 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 vite precedenti siamo riusciti a vederle quello che potevo il più possibile noi poi faremo successivamente delle altre dirette di durate un pochettino più breve rispetto a questa io le mie dirette le faccio il lunedì e il venerdì sempre alle diciotto e questo è stato proprio un caso questa volta che abbiamo fatto due ore però sono anche se le vite perché siamo riusciti come avete visto a vedere un attimino più vite rispetto a quanto possiamo fare si diamante è bello che tu possa fare tesoro di questa vita precedente di questo flash che abbiamo visto in maniera che puoi in qualche modo se puoi modificare ecco per cercare di non andare a ripetere tra virgolette la stessa cosa che quella è la più importante perché saper la vita precedente deve secondo me essere utile deve non si dice deve potrebbe ecco essere utile per cercare di migliorare e modificare quello che è il nostro percorso quindi da come ho visto potrebbe essere preferibile andare a fare una sorta di cambiamento scusate la voce ma abbiamo parlato per due ore siete stati veramente tantissimi nel corso vi siete cambiati visto nella partecipazione però penso che sia andato bene un pochettino per tutti io vi aspetto allora per la prossima io penso che lunedì non lo so devo ancora guardare quanti siete rimasti per le richieste perché se siete ancora tantissimi siete circa 200 tutte le volte e di 200 io vado a estraporarne una quarantina questa volta ne abbiamo fatti 70 e ne sono rimasti fuori ancora tanti però vediamo ecco se avete tante richieste se ho tante richieste vedrò di farne un'altra lunedì altrimenti lunedì andremo a fare qualcosa che abbiamo come ho fatto all'inizio ovvero vediamo la medianità ovvero i messaggi che ci possono essere dall'oltre quindi sono loro che vengono da me e non l'incontrario questa è una cosa giustamente da dire no? guarda Maria Laura Farino non so cosa dirti spero che tu possa riuscire a rivedere la diretta ecco tanto c'è la diretta su Bridges quindi dovresti rivederla anche perché quando io concludo ciao Simonetta auguri ancora quando concludo poi chiudo anche la vista le visioni quindi non ho non ho più l'idea di quello che andiamo che ho visto ecco sarebbe solamente una lettura ma devo andare a scaltabellare 70 persone per trovare il tuo nominativo e non abbiamo più molto tempo avevo piacere invece di salutarvi ecco mi provo a vedere la registrazione magari ecco qualcosa qualcosa è stato detto ok l'idea benedetto ti vedo adesso allora scusate la voce mi ho parlato troppo a tutte le persone che hanno ricevuto io ho messo il post nel post chiedevo di inserire la vostra foto profilo e la data di nascita se siete stati presenti a questa diretta avete ricevuto vicino alla vostra foto un mio piccolo messaggino nella quale vi diceva appunto che vi avrei risposto in diretta se non avete ricevuto nessun messaggio vuol dire che non eravate presenti a questa diretta quindi vedremo se ce ne saranno a volte altre si giusi expo ceri ho anche sbagliato il tuo cognome e per tutte le altre appunto anche per te giusi potrete vedere la registrazione che rimarrà sul gruppo di bridges basta cercarmi con la lentina ok guardate ce ne sono diverse oggi sono vestita così vestita di bianco e quindi vi vedete subito io allora vi ringrazio tantissimo di questa attenzione che mi avete dato a tutti se volete approfondire ci sono i messaggi privati altrimenti io vi ringrazio qui e ci riaggiorniamo alla prossima diretta un abbraccio grande a tutti voi grazie ancora grazie a tutti